Cama se lo masquagliamo Ma questa è deficiente Questa è ufficialmente deficiente Oh cristo c'ho torno addosso Eh Cerco di arrivare il più velocemente possibile No no se ne è andato Cazzo Non c'ho mana Merda Ma racchene se sta a fare i cazzi sua Do cazzo sta Io ho idea Occhio basta basta vai via vai via Sono morto sono morto come faccio andare via Non c'ho mano non c'ho niente Ma scusami Sono tutti i cavoccioni E come lo vuoi stilare Con la ulti Oh cristo i danni C'è la critico Maddio santo A 22 minuti con critico Ma c'è pochissima Perciò di critico Ma ha fatto solo critici Ma che culo è C'è stanno Allora volevi contestare Fargiant Ok Ho caposto capito Che volevi contestare Fargiant Ma che cazzo Te allontani Da Fargiant E te metti a fare i campi Aracne Aracne Oh E che sta a pensare fa I cazzo di campi I cazzo di campi Sono più importanti Stai a livello 18 Non c'era la Lavoro Stai a livello 18 E sta a pensare A fare 6 campi No non l'hanno messo Guarda Ma stai so fatti La fenice Ma quella ha mid Si Guarda Arac Guarda E sei rimessa A fare i campi Porco 2 Smettila Mi sta facendo Imbestialire Sta cosa Smettila di farti i campi Mettese in combattimento Cristo Il Dio Ma che cazzo è Ma perché devo Sclerare così Aracne Problematico Very problematico Io non ho un'idea Di come cazzo Si inizierà Nel game Season 2 Inizierà Nella prossima Paccia Tra l'altro La benevolenza Hanno detto Che era disattivata Mica disattivata Io non so Di che cazzo Dicano ogni tanto In quelle cazzo Dicano Io non so Se prendere Il build Ebbene Non farmi piare Da quell'altro O piamme Lo shell No ma come Viene prendere lo shell Perché tanto Ci massacrano Early game Io non vedo L'ora che arriva Sta cazzo De pace Così mi toggo De mezzo La cosa Che mi devo Fa' Sta build Che sta a fa quest'altro Che sta a fa quest'altro Che cazzo Ah no È FK Credo FK No Che cazzo sta a fa Oh No Te prego No Il Gilgamesh L'incoglionito No Ma è solo Dovrebbe esserlo Si è preso pure il teleport No ha sbagliato lei Ma sai che non sta a giocare Ma vuoi perché si è fatto la La bluestone Vabbè ci potrebbe stare In realtà In realtà No Cioè Adesso è la main Il main Cosa Lui è Il basic Quindi direi Maniche Oh Dagli l'ultimo colpo Che è qua Dove stai Ma perché passi di là Ci metti un botto Volevo mettere la ward Allora tu stami più lontano possibili Ares Grazie Ecco Un uomo in carica Caricano C'ho I suoni del gioco Bassissimi Beh Perché io non ho fatto Livello 2 Ma io non mi riesco a capire Sta cosa Ah adesso Adesso lui si Io no Ok c'è le catene Eh infatti Si è una rottura di coglioni Perché non posso fare Il dash Eh normale Non c'è tutto Niente L'arpia se la fanno Anzi Che qua Sta cosa Aspetta 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 Niente Che palle Ok Sta cosa che se non ti infliggo La passiva Aspetta Ma com'è possibile Sta cosa È una bait Infatti Madonna di dio Ma quanto è veloce Non ne so Ma non c'è Bluestone Ah no Ce l'ha Bluestone Urla Infatti Non ho visto L'attivazione Ok Arrivano Non è niente Ma non mi ha preso Oh c'ho Che te smelta Te smeltano tutti e due No guarda che sei in rage di kill Infatti mo probabilmente te carica Sta un po' più sotto la torre Che questo se gira Deve dire Non so riuscire a prenderlo Pazienza Ouch Ma non è possibile Ma che stiamo scherzando Ma dai ma come hai fatto a prendermi No finalmente l'ho beccato Non c'ho mana per la cura eh Occhio Ora si Sai quante cure mancherò oggi Questo che adesso viene Ha voglia Per forza lineare la dove uno fa E basta che non ha leato Mi fa un sidestep Ma un gankino no No eh Caria di dio Porca troia Una cochina Un gank Cioè veramente la gente Io non lo so I jungler O sono diventati pigri In casual Non lo so Ma ti giuro Non Oh so io che Harry Non vengono mai Neanche quando su support No lo so Ciccio stai detencando te eh Allora stai attento Stai sottoturre un po' Mi vado a fare le scarpette al volo Lo fa per forza il focus Perché se no Lefta no? No 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 Eh tra un po' c'è la ulti Occhio che come c'è la 5 Quello probabilmente C'è una ulti C'è una ulti Eh allora stai sott C'è un beulre Non ce l'ha la ulti Io so solo So indietissimo di livello No in realtà no Sono a livello 4 No stiamo No è buono Perché non hanno preso Kill iniziale Sta arrivando Però non ce lo stand Adesso si Ce l'ha ulti Dove sta? Sta beccando Sta beccando Sta beccando Preso No Non è tanto salta via Aspetta Ah scessa La scessa No l'importante è Avelo Fatto Per le palle Eppure io dovrei Andare a cominciare Ok Sono l'unica cosa Che non c'ho Il tunnel Perché non lo prendo mai Si si va Trema 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 Famo sequesta al volo Giusto per fassola Te mollo una war Per le andambe Anche se Le prenderò malamente Da url Anzi guarda Volendo Siccome non c'è la cosa Dovresti farti persino Le oracle Ah c'è sta mercury Ti danno a mano mercury Eccolo Ares Fatti per lo scorpione Oh merda Non ha ultato Che bastardo Non ha preso la bait La merda Non ha beccato la bait Arriva mid Come so Eh ma qua C'abbiamo set Che ha tirato tutto Set ha tirato la ulti Queste mi vengono da me L'ha detto L'ho chiamato Guarda che l'ho shotta volentieri Eh dai Su Come quanto cazzo Di raggio Ce l'ha Con la freccia Ma che cazzo Ma che sta a fa Sto deficiente Dai Dai mazzala Arco 2 Kugulkan La 1 Prima Cioè sul serio Oh grazie Con gli attacchi base L'hai ucciso Buono Niente Penso sia fa Buono Buono così Mi viene a coprire un attimo La lane se puoi Sì sto arrivando C'ho C'ho 2600 Non l'ho beccato per niente C'è 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 Macchina Ah cazzo 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 Chi sei? Dove stai? Ok Eh no C'ha vista arrivata C'è una ward No Non c'è Non c'è Non c'è Beccato Perfetto Vabbè Manca mid però Occhio Non c'è Non c'è Non c'è potenza Abbiamoci il campo Su cosa c'è Un attimo Sì ci sta E fallo inizialo L'occhio 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 è le ward Vabbè ce l'hai messo C'è pure il tuo volendo Tecnicamente quando tu rubi il campo non te lo devi prendere Non so perché Eh te lo prendi tu Aspetta che sta aiutando mid Si Non lo vedo ancora Ha mancato Eccolo Mamma guardare Ecco la cazzata Perfetto non ha finito ancora Ancora l'ultrashalence Cosa 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 Eh sì Perché Ares ha fatto la cazzata sta Praticamente zero di vita Eeeh No no Sta andato a vedere il buff suo ma No ma viene No No tanto non può venire a noi il tempo Guardate che abbiamo la Che palle Ok abbiamo il mino Vai 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 Eh dai su Ce la fai? Guarda però non c'ho la ultima Ah Occhio sta arrivando Ares e Chang'ha A meno che non si stanno andando a far rosso Eh a tiro Eh a tiro Eh te posso aiutare Proprio io sto messo ma Battene Se non puoi No io non ho urtato ancora io Sta qua Lo vedo Eeeh Sta cercando di beccare Ok no mi vuole pushare E' morto è 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 morto Prima di tornare Ma quando sono tornato in base mi sono cometo le scarpe Ma Non l'ho mai beccato Bisogna prima farsi le trasce poi le scarpe sul secondo cammino alla tier 1 What the fuck is this Eh probabilmente sta venuto lì qua Dovei andà a gankà del là Trash Shandence fatto, soldi per altro non c'è più. Aspetta, no, aspetta com'era? Gank? Mi è ticato, ok. X... C'hai coso? C'hai anche Ares da te eh? Sì, sì. Però sei andato a dare. No, 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 non farlo! Mi ha messo a Ulva? Non so. No, chissà qua, si è fatto... le arpi. Eh, vabbè però, cazzo. Cazzo, mo' si fa una tripla? Perfetto. Devono ammazzare la zone qui, sennò non lo ripigliano più il Damesh. Ma dai! Ho usato l'altra e v'è sa... per ingaggiare. Ehm... Curie? Poi farti... vabbè, dopo la prossima ondata ti fai le Oracle. Se puoi, eh. Sì, ma non ci provo. Non so dove sta Ulva, eh. Eh, mid. Ok. Meno le Oracle. Non me ne faccio. Potremmo... potremmo... potessimo. Possiamo farci. Ecco perché Ares lo squaglio. Ecco perché Ares lo squaglio. Perché? Perché si è fatto i disti falli viola e si è fatto la Stone of Binding. Sì, si sta facendo danno. Sbagliatissima sta... Cioè, non è che è sbagliatissima. Cioè, hai un sacco di potenza in più. Però... Ares e early game è debole. Ti fai delle cose del genere. Infatti, quando stai snowballando, sei sicuro di poterlo fare. Ma dai, c'è Ares da te, eh. Il mio piano si è andato a fa' Ma hai sbagliato. Che curo. Non c'è la ulti cosa. Eh, c'ho i bits card. Mi faccio un po' di torre, perché... E ammazzalo, ha Mercoli. Prima che mi ulta, per favore. Perché non c'ho il bid ancora. Abbiamo rubato un buff. Ok. C'ho paura di set. Mi ha sprecato la ulti in mele, Chang'ha. Non c'ho la ulti per scappare da set. Ehm, penso sia... Left? Left? Penso, eh. Da me? No, scusami. Right. Non... Sono sempre... Ho sempre... Ho fregato il buff. Ah. Che poco la piavo. Arriva Ulur, eh. L'ho visto. Mi arrivo pure io. Ah. Era morto set. Si, che te l'ha ultato. E' andato... Oh, 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 oh. Occhio. Guarda set che è morto. Eh, vada a fare a sti cazzo. Set era morto. Occhio ai lati. Eh, lo so. Sta qua giunga. Però non posso lasciarle... La cosa. Non gli posso lasciare la lena a quello. Eh, non sarei fatta. Oddio. Mamma mia che botta che gli ha dato. L'ho beccata, l'ho beccata. Mamma mia, non quello cazzo. Perveni aiutamente, porca troia. Eccolo qua. Passurato, si. Via, 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 via. Eh, no problem. Io che ce crepo, no, grazie. Anche perché ho bisogno di te per curarmi. Ecco. Allora. Lotus, tecnicamente dovrei farmi una valor, ma non me la voglio fare, quindi mi faccio un relic. Perché è più intelligente questa cosa. Il che dice il contrario sti cazzi, perché il relic mi dà anche cooldown redaction. A me mi interessa quella. Non avere un botto di mana, ma avere più mana disponibile in battaglia. Muller dov'è? Non so se si mid. Non lo vedo. No, tornare. Non è che se si... no, col Fury c'è sta la burda. Niente. Tutte. Non lo so. Ok. Ares è debolissimo. Stanno venendo dati. C'è anche set. Ma... Si è fatto il crash a quel cazzo di Ul. Si si, si è fatto anche il... Pezzo si è fatto. Dove è cato? No, no, ci sto, ci sto, ci sto, ci sto. Ci sei? Si. Vai. Se siete, eh no. Curl che è da solo. Tu rispondi che sei passore da. Ok. Via, via, via che è ultato. Si è finita la ulti. Si, adesso si. Facciamoci lo scorpione. Vabbè. Non so se l'abbiamo fatto, si l'abbiamo fatto. Guardate sto bastardo. Ce l'ha inculata. Guarda sti cazzo. Io non penso, mi faccio critico comunque. No. C'è, no. Si, te converrebbe su Ashiman. Ah no, non ti puoi fare critico quella build. Se devi fare critico, ti devi fare i gauntlet. Fatti l'executioner. Si, si, ma lo faccio. Tu ci hai un po' di penetration. Guarda. Mi ha preso adesso. Puttana verginella. Che male che fa. Fu il danno sto stronzo qua. Eh, te credo. Si è fatto il Pythagorean. Si, eh. Vieni verso di me. Mi dà pure altro power. Perché è lo stupendo da dare. Non lo fare. Mercury. No, no, è morto. È morto, è morto, è morto, è morto. Io non c'ho mana per ingaggiare. C'ho manco la ulti. C'ho la ulti io. Aspetta. Aspetta, non la usare. Mi sa che c'è sta urla da qualche parte. Bravo. Metto una urdina qua. Bravo. Infatti eccolo qua. Solo che adesso potevo ultare. C'ho ancora altre due le relic. C'ho la ulti per scappare. Ma porco. Già è difficile beccà la raga sta roba eh. Buono. Dai, come cazzo ha fatto la torre. Bravo. Ho scappato. Facciamoci la torre. Si, facciamoci la torre. Gatto, l'ho stato incandolo io. Aia, infatti. Aia. Ok. Ok set. Si, magari sembro... Madonna, gli ha starnurito addosso e l'ha squagliato. Questo a dimostrare che il game esce anche se lo usano per la maggior parte del jungle. Ah, è forte. Dio. Che cazzo sta fa' Ah, ok. Vieni qua, vieni qua. Buono. Becchiamo, becchiamo. Si, conviene passare la tua lane. Si. Eh, veramente se l'ha dovuto fare un pezzo, un po' detto... Vabbè, oggi io non parlo oggi, oggi è balbetto e basta. È il vaccino, è il vaccino. È la la zeppola. Che, che super porterie ti ha dato? C'è, però, le nano, i nanobot in te addosso. Ah, si. È tutta di Crysis incorporata, cioè. Magari! Ah, no, era proprio una maledizione quella tuta, se non sbaglio. Eh, ma vuoi perché sta cazzata? Se ne è morto, se ne è morto. Mattene, mattene, mattene. Andiamo a cercare, non le but... Le butta giù tutta qua. Non penso che ce la facciano. Oddio, Vale. Alve, qua c'è anche che è morta, praticamente. Eh, non so. Anche 7. Siamo tutti addosso? Forse se fanno una... Vabbè. No. Vale, se vieni a... Sì, ma se vieni a pulì, guarda. Ho tutti mezzi morti. Eh, tranne... Quel porcellone di zoom. C'è 7, mezza vita. C'è anche anche se l'ha curata coso... 7, curato... Non è. E occhio però se stai da solo. Scappa. No, non mi ha sorpreso io la kill su cosa. Che palle. Eh... Ha visto kill gamash, ok. Ma io non capisco sto vulcan come cazzo sta a giocare. Cioè, allora... Prima ti chiedi la 1 e poi... Non sta a prendere tutte le kill, si sa. No, più che altro... Cioè, caglia di Dio sta... E' bravo, eh, per caglia di Dio. Però sta facendo... Cioè, prima usa il tornado e poi la 1. Devi prima tirare la 1 e poi il tornado. Cioè, te stanna qui. Cioè, ma rallente poi. Diamo se la Fury va. Sì. Ho preso il rosso. Hihihi. Che cazzo sto facendo, secondo te? Uh, il canno. Poi non ci abbiamo visione, però, eh. Aspetta, mettono qua. Ma se magari venivano qua, mi facevano un piacere. Never mind. Ma perché si sorrendano? Potevano vincerla! No. Ma non c'ho 3500 gold! GG! Grazie.